Buon salve a tutti e benvenuti a questo nuovo vlog che non facevo da un po' di tempo più che altro perché voglio aggiornarvi su quello che vi sta per aspettare in questo periodo a cominciare subito dal mio primo webinar gratuito realizzato in collaborazione con il CodeMotion ovvero dal vostro computer potrete seguire il mio talk sui tool di sviluppo di Firefox nativi in cui presenterò i vari tool e delle demo per come utilizzarli però c'è tutto l'articolo e le maggiori informazioni e questo lo potete fare direttamente al vostro computer del 13 febbraio in tempo reale purtroppo per chi utilizza Linux il sito non funziona bene e non è colpa del CodeMotion però il bello è che questo video però verrà caricato successivamente sul canale YouTube del CodeMotion quindi potrete rivederlo quante volte vi pare va bene a voi comunque a parte questo ci sarà anche successivamente un altro webinar probabilmente un altro mio talk su Firefox OS Development for Newby quindi ci sarà anche quello la stessa cosa però per maggiori informazioni c'è l'articolo questo video l'ho realizzato per aggiornarvi un po' da quello che vi sta per aspettare nei prossimi mesi ovvero video montati meglio argomenti più interessanti video su un altro canale YouTube che adesso ne voglio dire fare un piccolo reportage visivo del FOSDEM che spero in questi giorni di aver pubblicato il resoconto che sto aspettando che il FOSDEM stesso carichi i video dei vari talk per poterli riversare io vedere quelli che mi sono persi ma anche per migliorare un po' il reportage in modo da accedere tranquillamente ai vari talk che ho seguito direttamente con il video in modo da vivere anche per voi un po' l'esperienza del FOSDEM che era veramente picchissima a parte la questione gadget che voi vi siete persi tipo con chi fatta a mano bellissimo c'ho anche qui il peluche di MySQL c'ho anche la pennetta USB di KDE originale che potete vedere così non ha idea di quanto abbia di spazio anche perché non mi importa c'ho anche il portabeji di KDE qui sopra e di LibreOffice sempre qui e poi ho riportato ovviamente a tante spillette come il mio solito e c'ho anche la nuvola di OpenSUSE e la palla di Postgre e Squale anche se è un modo per ricordarmi che lo devo provare prima o poi comunque ho avuto anche la possibilità di contare Stam ma vi lascio a riportarci quando sarà pubblico comunque a parte questo un po' vantarmi delle mie conquiste ma c'è tutta anche la raccolta foto per vedere anche tutti gli altri il tema principale di questo vlog è parlare della raccolta fondi di Skills & More cos'è Skills & More? Skills & More è un'evoluzione del progetto More di Andrea che è un sistema di corsi dedicati a migliorare le conoscenze per il programmatore questi corsi al momento ce ne sono diversi la beta era stata già aperta da tempo a privata però vi lascio al video di Andrea che vi spiega molto meglio queste formazioni ma io ho fatto questo video principalmente per annunciarvi che c'è la raccolta fondi quindi una campagna su Appela per partecipare per migliorare questo portale grazie anche al vostro aiuto economico quindi valuterete voi perché sulla pagina di App ci sono tutti diciamo come si fa su Kickstarter sai pago quello in cambio c'ho quello vi divertite voi insomma però partecipate anche voi perché in questo progetto ci saranno anche probabilmente dei miei futuri corsi sugli argomenti che forse abbiamo anche già accennato un po' in questo canale da Firefox OS e altre tutte pensate per la programmazione al momento stiamo pensando a una cosa di entry level quindi molto semplice per chi vuole incominciare a fare ma non sa dove mettersi le mani quindi partecipate anche voi in questa campagna di raccolta fondi e fate la vostra parte però il video lo chiudo subito qui perché sennò non è un vlog ma è un'epopea visto che è facile che io mi dilungo perché parlo troppo specialmente qui non c'ho nessuno un cartello che dice stop quindi vi lascio la pagina con tutti i dettagli per poter partecipare a Skills & More che come ho detto fa parte del network & More ovvero insieme ai siti di WP & More HTML5 & More e Blog & More in cui ci sono già anche dei miei articoli di Eugenio e di Andrea su molti di questi argomenti che potrebbero interessare a livello di sviluppo quindi dategli un'occhiata e fatemi un po' di cultura perché la cultura non fa mai male specialmente quando è fatta bene da Andrea perché gli articoli che vedete su quel portale del chitti da me sono scritti da me ma sono stati rimaneggiati da Andrea perché voi non potete capire cosa è fare una sistemata a quello che scrivo io perché è di programmazione è un po' criptica quindi approvittatene che li trovate scritti in modo umano e comprensibile grazie a questo lavoro immenso di Andrea di riadattamento di quello che scrivo quindi vi saluto ci vediamo quindi alla prossima non perdetevi quindi il prossimo video vi parliamo di non dimenticate di partecipare alla raccolta fondi di leggervi i reportage del FOSDEM e di aspettare per i prossimi video anche per i prossimi articoli perché vi ricordo che adesso scrivo anche per chi me era Revo e ne ho già pubblicati diversi ma probabilmente proseguirò no probabilmente proseguirò ma probabilmente però anche altri sondaggi specifici per chi me era Revo per proporre nuovi temi da parlare da qui discutere lì perché lì è un mondo diverso rispetto a quello che sono stato vedo io con il mio sito e con il Network & More perché è più orientato alle discussioni sulle tecnologie non come funzionano le tecnologie come Network & More per questo Network & More è molto importante perché vi spiega dalle basi come funzionano le tecnologie come poterle usare senza avere grandi conoscenze quindi è interessante per chi vuole iniziare quindi anche Skills & More sarà interessante per chi vuole iniziare però vi lascio il link quindi non so se riuscirò a mettere un pozzante qui da qualche parte però dategli un'occhiata anche voi a questa campagna fondi perché probabilmente diventerà interessante come andrà a riuscire ad organizzare ad evolvere questo portale quindi anche nel vostro interesse dare un piccolo contributo ci vediamo alla prossima Grazie a tutti